Musica Ben trovati a tutti gli appassionati di sport invernali, di sci in particolare con noi, con Neve Italia per il consueto appuntamento di approfondimento sulla Coppa del Mondo di sci alpino e in particolare parliamo di Slalom in questa puntata, visto che le ultime gare sono state caratterizzate da questo format io come sempre do il benvenuto a Paolo De Chiesa, ciao Paolo Ciao Dario, buonasera a tutti Ben trovato, e allora parliamo della tua specialità preferita cominciamo ovviamente con gli uomini perché sono arrivate buone notizie prima per questo podio di Vinazzer, soprattutto per l'età a cui l'ha ottenuto a poco più di 20 anni e quindi di solito quando succede, guardando al passato, era da 30 anni addirittura che non capitava di trovare un azzurro così giovane, capace di salire sul podio dai tempi di Ghedina ma in pochi ci siete riusciti a quell'età o anche prima tu sei uno di questi, insieme a molti tuoi compagni della Valanga Azzurra ma Gross, Tony, ma anche Tomba e lo stesso anche Plank, anche lui è stato molto giovane è una buona notizia questa, soprattutto per l'età e per il fatto di esserci già arrivato sul podio a Vinazzer sì, è una gran bella notizia, è stato veramente molto bravo Vinazzer a Zagabria era nell'aria, perché quest'anno l'abbia visto sciare meglio della Trano ha colmato delle lacune che c'erano, che gli impedivano i grandi risultati già la stagione scorsa e adesso è più continuo, più concreto, di testa lui c'è perché comunque lui ci prova, a Zagabria ha dato veramente prova di essere forte psicologicamente la seconda manche, era l'ottavo loro, la prima manche mi pare la seconda è andata proprio forte, senza paure, senza timore di sbagliare perché anche sul ripeto con Masciato mi ha impressionato quindi ha fatto una grandissima prova, molto molto vicino a Noel quindi Noel poi per carità ha sbagliato nella prima manche e ci ha lasciato giù qualcosa ma parliamo di seconda manche, dove hanno giocato tutti alla pari con tracciatura un po' diversa rispetto alla prima Vinazzer ha dimostrato di esserci decisamente, comunque era difficile, ce l'auguravamo che potesse provare a ripetersi subito la gara dopo a Madonna di Campiglio, sul canalone Miramonti nelle altre tre però ovviamente è un tipo di condizione di pendio diversa è una situazione comunque che ha visto grande equilibrio quindi bisognava anche prendersi dei rischi in più essere anche abbastanza perfetti, quindi cosa non facile però è il risultato di squadra che è emerso nella gara italiana trentina Allora, analizzando la gara di Vinazzer a Campiglio è stato comunque bravissimo Priamash era lì, come a Zagabria nella prima quindi c'era una bellissima mash d'apertura poi nella seconda cosa è successo? Intanto è arrivato, vabbè, tredicesimo a quindici centesimi dal sesto posto quindi Uninezia è già sesto ma poi lui ha perso più di Uninezia nel senso che ha fatto un errore in un punto cruciale dopo il primo dosso, partenza, compressione, primo dossetto c'è un tratto in pendenza, non dico blanda ma rispetto al muro sotto sicuro in media pendenza diciamo c'erano quelle 5 o 6 porte dove ha incantato a mio modo di vedere Zenoiser che ha scelto meglio di tutti in quel punto era difficilissimo scelare forte lì e chi ci è riuscito ha fatto veramente un po' la differenza in quelle 5 o 6 porte e poi prima di entrare nella diagonale lunga verso sinistra che porta al muro che portava al muro Bene, Vinazia lì alla seconda e terza porta ha avuto un'incertezza ma neanche una spigolata gli è scivolato per un attimo lo sci interno di qualche centimetro quindi è come se avesse inciampato e a quel punto ha dovuto ritardare il cambio e lì i cambi erano veramente al centimetro e al centesimo di secondo se sbagliavi poi andavi a ritardo nella porta successiva e quelle altre che incalzavano non ti davano modo di recuperare assolutamente no e lui è stato bravissimo lì a limitare i danni ma secondo me ha perso perché non ha perso soltanto in quel fragente ma ha perso proprio nelle porte successive perché ha perso il ritmo frenetico che aveva impostato e che hanno avuto quelli che hanno fatto i grandissimi tempi quindi bravo a stare in piedi perché io l'ho visto per terra praticamente e poi sotto abbiamo visto dei tratti di nuovo buonissimi ad altissimo livello ripeto, tredicesimo con quello che è successo a quindici centesimi del sesto posto quindi un'altra grande gara Paolo io ho avuto la sensazione a guardare la gara tu eri lì ovviamente a seguirla che stia tornando non che mancasse però si percepisce questo entusiasmo che sta montando che sta crescendo i risultati degli italiani soprattutto Paris chiaramente ma anche al femminile stanno di nuovo caricando l'atmosfera di energia mi pare il pubblico ha risposto bene in una data che era insolita rispetto a quando si gareggia la 3-3 a Madonna di Campiglio hai avuto anche tu questa percezione? sì c'è molto entusiasmo in questo momento per lo sci alpino certo i risultati sono quelli che contano in questo senso, in questi termini una data scomoda metà settimana dopo l'epifania vacanze finite c'erano 14.000 persone ieri sera così hanno detto gli organizzatori e c'è da credervi quindi questo è il sintomo sinonimo di successo di entusiasmo di voglia di sci di voglia di vedere i nostri poi certo la pista diciamo che Campiglio ha fatto un grande lavoro di promozione in giro per l'Italia il presidente Lorenzo Conci del comitato organizzatore è stato bravissimo come sempre quindi l'ha pubblicizzata molto bene questa gara ma proprio sul territorio sono andati anche in Russia pensate un po' perché ci sono tanti russi a Campiglio e a sciare e quindi il popolo dello sci ha risposto c'erano gli spalti pieni devo dire poi c'è stata anche una novità è stato cambiato un po' il tracciato di Campiglio è stata inserita all'interno della pista una specie di S nella parte alta quindi creando una sorta di diagonale in più prima della diagonale di missione sul muro che è diventata leggermente più lunga perché si scende sul muro imboccando più a sinistra scendendo e poi invece di scendere un po' di sbieco di traverso con pendenza trasversale in curva a sinistra è stato deciso di incrociare il muro sulla linea di massima pendenza quindi da sotto avevi questo muro che ti sembrava di sbieco ma in realtà era esattamente sulla linea di massima per cui questo ha fatto sì che intanto gli spalti fossero molto più vicini al percorso di gara quindi c'era la gente veramente lì addosso a Yul il vincitore e se lo sono potuti godere tutti veramente quasi toccandolo e poi questa novità ha dato modo di sfruttare al meglio le capacità, le performance massime di questi fuoriclasse abbiamo visto sciare sul muro come credo di non aver mai visto prima ho visto, ieri sera sono rimasto impressionato ho visto un livello eccelso a dir poco ho visto delle cose incredibili in slalom complice anche la tracciatura nella seconda massima c'era un po' più di spazio e quindi questi hanno scaricato sulla neve la loro potenza hanno dimostrato tutta la loro abilità oltretutto non mi ha dimenticato che la neve era eccezionale perché il ghiaccio di campiglio quasi sempre non è vetro lo vedi lucicare, lo vedi brillare dici questa è una lastra è durissima la pista ma ha grip cioè tieni e allora per questo motivo li vedi sciare in questo modo è una neve addetta di tutti i tecnici e atleti eccezionale ed è stato uno spettacolo strepitoso guardando alle gare finora disputate più o meno ce ne sono state una quindicina e si nota veramente grandissimo equilibrio Venturo è vero che ha vinto tre volte ma in tre diversi format e l'unico ad aver vinto la gara la sua poi due volte è stato Paris Paris che ha vinto le due discese chiaramente di Bormio e comunque davvero questo diventa il mese decisivo per capire se la competizione per la generale potrebbe riguardare anche quelli che non si chiamano Pintourot o Christofferson perché da questi slalom di gennaio dalle gare classiche si capirà perché se la classifica non è troppo distante di Paris dopo ci saranno tutte gare equamente abbastanza divise cosa ne pensi Paolo? si è detto bene Dario sono d'accordo però intanto all'appello adesso hanno risposto subito bene Christofferson e Pintourot erano molto importanti questi slalom Christofferson ha sbagliato il primo a Zagabria è il primo di questi 6 di gennaio è un filotto molto importante determinante finita la coppa del mondo per uno come Christofferson che se la gioca beh, giocando le sue carte soprattutto in questa specialità insieme al gigante perché lì finisce invece Pintourot poi può spaziare il super gigante ma soprattutto in combinata alpina devo dire che è stato bravo anche Pintourot arrivare quinto a Campiglio se l'è cavata in modo egregio anche a Zagabria a Pintourot ha fatto punti pur con un errore gravissimo a Biamash dal quale si è salvato con un'immensa classe perché quella inforcata io non so come abbia fatto a evitarla su quella stradina che ha messo in difficoltà tanti atleti e tra gli altri anche Gross per quanto riguarda Christofferson battuta d'arresto a Zagabria il diciannovesimo marcava male perché insomma sono 6 cartucce veramente fondamentali per le sue armi e invece a Campiglio abbiamo visto subito il vero Christofferson è arrivato secondo ha vinto due volte in passato su questa pista era secondo al termine della prima manche complice un errore in cima al muro e nella seconda ne ha fatto un altro di minore entità però in fondo al muro proprio imboccando il pianolo prima del tossetto davanti al traguardo che dà grande velocità soprattutto poi nella tracciatura di ieri li ha sbagliato di nuovo si è un po' piantato proprio in uscita dal muro quindi non è riuscito a fare quello che poteva fare se no secondo me vinceva lui però comunque è andata così perché Yule ha vinto con con tanto merito aveva un vantaggio esiguo al termine della prima manche su Christofferson nella seconda è sceso a breglia sciolte non ha sbagliato niente è stato veramente ardito ha avuto molto coraggio ha attaccato sempre secondo me è stata una gara eccezionale quella di Yule che ha vinto due volte in carriera guarda caso sempre a Campiglio guarda caso con numero 4 lì non c'entra lui c'entra magari una sorta la cabala e lui era felice di questo il nostro microfono ieri e beh giustamente anche perché ripetersi in un posto così prestigioso non è affatto banale al di là che questa volta mancasse Hirscher ma l'altra volta erano comunque saltati i protagonisti passando al femminile Paolo si parla tanto di questo spionaggio questo fatto di andare a cercare di carpire i segreti di Schifrin da parte di Magoni che segue Vlova però io ti chiedo ma scusa ai vostri tempi c'erano meno mezzi tecnologici però qualcuno gli occhi ce li buttava su di voi per capire come mai c'era questa valanga azzurra no? sì ho sentito questa notizia riportata dai giornali dai social eccetera ma non lo so mi sembra un po' di un po' di clamore per nulla non so cosa abbiano fatto quelli dello staff di Vio Magoni per essere tacciati di spionaggio sportivo non credo che ci siano tanti misteri poi se c'è un mistero riguardo al setup dei materiali non penso che permettano quelli dello staff della Schifling a una telecamera a un telefonino di avvicinarsi in modo da riprendere da vicino quello che stanno architettando eccetera eccetera o provando non lo so sinceramente mi sembra un po' una buttada magari la Schifling non lo so se ha detto queste cose sono state travisate con quale enfasi sinceramente non lo so mi pare che lasciano il tempo che trovi non c'è problema non c'è problema in questo senso credo ma anche perché è normale cercare di capire quelli che vanno forte cosa stanno facendo cercare di cogliere quei particolari per provare anche tu ad avvicinarti in qualche modo in realtà poi si parla di questo argomento per la prima volta da quando Schifling nello slalom si trova sul podio ma non vince rimedia un distacco che sembra incredibile superiore a un secondo non era mai capitato merito della vlova vuol dire che comunque al di là di quello che stanno guardando nei video di Schifling stanno facendo un gran lavoro sicuramente questa sconfitta brucia negli ultimi 23-24 slalom consecutivamente hanno vinto Schifling quattro volte più della vlova e vlova adesso ha vinto lei dandole una bella bastonata è chiaro che nei primi tre slalom era andata era andata a nozze aveva vinto nei primi due un secondo e otto la seconda un secondo due secondi e due la vlova nel secondo slalom di Killington poi a Lienz la vlova aveva diciamo accorciato le distanze perché ha fatto due match molto regolari a tre decimi per match da una Schifling impeccabile per cui la Schifling ha detto beh attenzione che questa sta tornando perché la vlova quest'anno la Slovacca ha avuto tantissimi problemi fisici di salute eccetera eccetera poi adesso questa infiammazione alla tibia è secolata a Milano è stata ferma non si è allenata come avrebbe potuto dovuto ha fatto dice Livio Magoni 18.000 curve in slalom e di solito non so quante deve far o ne fa quindi è a corto dell'allenamento adesso sta tornando è tornata perché io l'ho vista sciare forse come mai nella mia vita in slalom la vlova e ha battuto nettamente la Schifling allora non so se la Schifling ha avuto ha avuto un giramento di scatole per cui è nata tutta questa storia dello spionaggio ma a me non fa ne caldo ne freddo voglio dire spionaggio per me non esiste cioè in questi termini siamo sulle piste facciamo quello che vogliamo cerchiamo di copiare ma certo che copiamo ma ci mancherebbe se uno va più forte vai a vedere perché va più forte ma da sempre è così e sempre sarà così io credo qual è il mistero se vuoi fare delle cose che nessuno veda e beh allora ti metti in un capannone vai che ne so a Dubai lo chiudi te lo affitti e fai tutto quello che vuoi ma se sei in giro all'aria aperta voglio dire ci sono i telefonini ci sono i video non ci devono essere misteri ma di che misteri stiamo parlando poi se parlassimo di tecnica ancora peggio io vado a filmare una perché la copio tecnicamente cioè la vedi tutti i giorni in televisione cosa c'è da nascondere non le capisco queste cose sinceramente fanno anche un po' ridere va bene direi che è il modo migliore per chiudere questa come al solito piacevole chiacchierata Paolo grazie mille ancora alla prossima ti aspettiamo su Nelitalia grazie Dario a tutti voi buona serata ciao ciao grazie a tutti